Qualche settimana fa la procura ha chiesto di dissequestrare i beni di Consoli che erano stati in precedenza sequestrati e oggi chiede il rinvio a giudizio di Consoli. Ci sembrano delle richieste fra loro in contraddizione. Sono perplessi gli avvocati che rappresentano i risparmiatori truffati da Veneto Banca. Perplessi da una procura che prima di sequestra quasi ad indicare un ruolo marginale dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli e poi lo indica come unico imputato per il crack della Banca di Montebelluna. La notizia che l'unico rinvio a giudizio per quanto riguarda il procedimento di Veneto Banca per agiotaggio, ostacolo di vigilanza e falso in prospetto è dell'ex amministratore Vincenzo Consoli ci lascia un po' perplessi. Andremo a verificare i documenti processuali, le motivazioni del giudice. Certo che come rappresentanti dei risparmiatori noi ora attendiamo che il fondo indennezzo parta per l'iniziale 30% e non ci fermeremo. In Menza si attende la data di comparizione davanti al giudice sia per il rinvio a giudizio di Consoli che per l'archiviazione degli altri vertici di Veneto Banca. Per gli avvocati dei risparmiatori la speranza si sposta a Venezia. Pare strano naturalmente che essendo il CDA composto da numerose persone solamente una di queste numerose persone sia stata appunto ritenuta come responsabile delle tante violazioni che sono state appunto commesse. Attendiamo quindi di vedere l'accessione del GIP e naturalmente osplichiamo che per i risparmiatori venga fatta giustizia. Adesso con la sentenza che sarà emessa a breve dalla Corte dell'Appello di Venezia si potrebbe aprire il processo per bancarotta e naturalmente in questo processo potrebbero rientrare tutti gli amministratori che non faranno parte appunto del troncone principale. Insomma Venezia potrebbe riaprire lo schieramento di imputati che Treviso tende ad escludere con più persone che dovranno quindi rispondere alla giustizia ma anche i truffati. Il fatto che ci siano questi processi penali per i risparmiatori è positivo perché in caso di condanna potranno appunto andarsi a soddisfare dal punto di vista civilistico sui beni degli ex amministratori di tutti coloro che verranno appunto condannati.